Terzo giorno di ritiro qui a Sturno, siamo al Castagneto alle mie spalle, l'US Avellino si allena agli ordini di mister Piero Braille del secondo, Domenico De Simone, possesso palla, passaggi, movimenti e tanta parte atletica, ha lavorato anche in palestra la squadra bianco-verde e si attendono ovviamente nuovi rinforzi, l'Avellino ha chiuso come abbiamo già detto nei nostri telegiornali per Michele Bruzzo, centrocampista classe 1999 che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Ponte d'Era, non fa parte di questo allenamento, comincerà bensì domattina, raggiungerà la squadra direttamente presso Casa Reale in serata e quindi da domani comincerà la sua avventura bianco-verde in maniera ufficiale. Salvatore di Somma che ha praticamente chiuso anche per Mirko Miceli, centrocampista difensore centrale chiedo scusa a 1991 e la sua classe e arriva dalla San Benedettese. Qualche dubbio in più invece sulla trattativa che dovrebbe portare Francesco Rapisarda in bianco-verde, sempre dalla San Benedettese. Comunque l'Avellino lavora sul mercato, alacremente per consegnare a Mr. Braia pedine importanti per cercare di andare avanti con il completamento dello scacchiere bianco-verde. Comunque dal Castagneto si lavora e domani sarà il quarto giorno.